Le indagini sul caso Resinovic, sotto la competenza della squadra mobile della questura e coordinata dal pubblico ministero titolare del fascicolo, Maddalena Chergia, stanno prendendo una svolta decisiva. Prima di continuare ricordati di mettere un like al video, iscriverti e attivare le notifiche, per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. Nei giorni scorsi sono stati sentiti Laura Grassi e Giuseppe Gramegna, noti come gli amici di Romanze di Liliana e Sebastiano. Secondo quanto riportato dalla stampa, le loro dichiarazioni avrebbero il potenziale di gettare una luce completamente nuova sul caso. Il giudice Luigi Dainotti, che ha autorizzato la riapertura delle indagini, aveva richiesto un'analisi approfondita dell'hard disk che Vintin avrebbe consegnato alla coppia. Tale analisi dovrebbe anche indagare sulla presunta presenza di contanti nell'abitazione di Via Verrocchio. Gabriella Micheli, amica e vicina di casa di Lilli, è stata interrogata riguardo alle circostanze del ritrovamento della fede nuziale insieme a Sebastiano e Sergio Resinovich. Claudio Sterpin è stato convocato in questura, alcune settimane fa, per chiarire la sua posizione sui social media e per fornire agli inquirenti tutte le password dei suoi profili. Tuttavia, Fulvio Covalero, raggiunto al telefono, ha dichiarato di non essere stato contattato dalla squadra mobile dal 27 dicembre 2021, nonostante il prelievo del suo DNA successivo a quella data. I tentativi di contattare Sebastiano Vicentin sono stati finora infruttuosi. Le indagini proseguono e, nel frattempo, si avvicina il termine indicativo dei sei mesi per concludere questo ulteriore sforzo investigativo. La città resta in attesa di ulteriori sviluppi in un caso che continua a tenere col fiato sospeso l'opinione pubblica.